Buongiorno da Edo, oggi 24 novembre è la giornata di inaugurazione di Leonardo, il supercomputer pre-exascale che sarà il quarto più veloce al mondo, facendo sì che due dei quattro più potenti supercomputer del mondo si trovino in Europa. È gestito dal Cineca al Tecnopolo di Bologna ed è parte del piano dell'EuroHPC, ovvero European High Performance Computing. Il secondo a essere messo in funzione dopo il Lumi in Finlandia lo scorso giugno ed è un piano che promuove lo sviluppo di una rete europea di supercomputer. Allora, intanto, che cosa significa exascale? È una misurazione, una classificazione delle performance dei supercomputer misurata in quantità di flops, cioè floating point operation per second, quindi operazioni di calcolo in virgola mobile al secondo. Guardando la classifica dei supercomputer top 500, finora l'unico ad aver superato questa soglia è Frontier, installato nel 2021 a Oak Ridge negli Stati Uniti e realizzato da HPE, che sarebbe Hewlett Packard Enterprise, con processori AMD Epic. Il secondo in classifica, e si scende di parecchio perché andiamo a più che dimezzare le prestazioni, è il supercomputer Fugaku, realizzato da Fujitsu e installato a Kobe in Giappone nel 2020 con processori di Fujitsu A64FX. E poi, appunto, abbiamo il finlandese Lumi, che è praticamente una versione ridotta del Frontier, sempre realizzato da HPE e sempre con processori AMD Epic. E infine eccoci qui al quarto posto, che da oggi è occupato da Leonardo, sviluppato dalla francese Atos e basato sulla sua architettura Bull Sequana XH2000. Il sistema è equipaggiato con circa 3.500 processori Intel Xeon e 14.000 GPU Nvidia A100, monta RAM DDR5 prodotta da Micron e sfrutta la tecnologia Nvidia Quantum InfiniBand per le connessioni di rete, che devono garantire una latenza estremamente bassa e una banda molto alta per mettere in comunicazione i nodi del network. EuroHPC, tra l'altro, dice che in futuro sarà migliorato dall'integrazione di processori quantistici. Atos è un produttore francese che ora ha 43 supercomputer nella lista top 500. Quindi non sapevate che quello del supercomputer è un business in espansione? Oggi lo sapete. Peraltro la stessa Atos sta costruendo Mare Nostrum 5 al Barcelona Supercomputing Center, che sarà invece dotato di processori Intel Sapphire Rapids, che sarebbero gli Xeon Scalable di quarta generazione, coadiuvati da CPU Nvidia Grace, che sono dei processori ARM costruiti apposta per le alte prestazioni degli HPC e per i calcoli di intelligenza artificiale. Tutti i supercomputer EuroHPC saranno disponibili all'uso attraverso servizi cloud-based, sostenuti da un'infrastruttura di rete federata con connettività terabit. E la rete è destinata a espandersi ancora, quindi l'obiettivo dichiarato è di rendere l'Europa una superpotenza nell'ambito del supercalcolo. Oggi, all'inaugurazione di Leonardo al tecnopolo di Bologna, ci sarà il presidente Mattarella, che comunque dà un po' l'idea dell'importanza dell'evento per l'Italia, che conferma il ruolo importante in questo settore, perché ricordo che il Cineca gestisce un altro supercomputer, che è Marconi 100, basato sull'architettura IBM Power 9 e GPU Nvidia Volta, ed è operativo dal 2020. Bene, puntata piena di numeri e nomi, volevo fare un po' di sovranismo digitale, visti i tempi. Comunque grazie per avermi seguito fin qui, nella prima puntata della settimana non ce l'ho fatta, negli altri giorni sono stato incasinato, però ho fatto uno short, se mi sentite in podcast andate sul mio canale YouTube, e vedetevi anche lo short che ho preparato, perché ci ho messo tanto amore. Alla prossima. Ciao. Ciao.